Diciamo che la seconda parte del campionato, a partire dal giorno di ritorno, abbiamo avuto quest'unione che insieme a tante altre componenti ha reso questa squadra veramente forte. Perché mi sembrava di fare due conti che nel giorno di ritorno, se ci fosse stato solo quello, forse saremmo a primo posto in classifica o qualcosina lì. Niente, sono molto contento per il risultato, due anni, mi dicevano pure che il presidente ha due anni di campionato, due anni di vittoria, di questo ne vado orgoglioso e fiero. Voi parlavate poco fa con Fabrizio, diciamo che tutto il merito di quello che questa società sta ottenendo, una grandissima parte è sua, insieme con il direttore Lomonaco, perché loro sono veramente le due persone che di calcio ne capiscono tantissimo. Io sono un uomo prestato a calcio, io sono diventato quasi riconoscibile per quel mio famoso 4-3-3 che per me è 433. Il mio compito in questa società è quello di tenere le carte a posto, fino ad oggi ci siamo riusciti e speriamo anche nell'anno prossimo di raggiungere questo traguardo. Oggi abbiamo vinto sul campo, sicuramente anche da parte mia per quanto riguarda le carte mi rendo orgoglioso il fatto che fino ad oggi tutti i controlli che abbiamo avuto siamo andati tutti quanti a buon fine.